Ragazzi, è come se a me un ladro mi entra in casa, mi porta via tutto, mi manda sull'astrico perché non c'ho più una lira e poi me lo ritrovo a farmi l'assicurazione contro i furti. Cioè, di che si parla? Ciao a tutti fringuelli, oggi parliamo di doping, anche dopo le ultime notizie derivanti dal Tour de France dove la squadra di Nairo Quintana è stata fermata dalla Gendarmerie di Marsiglia per accertamenti su alcune sostanze dopanti e su alcuni metodi dopanti. Bene, è brutto dirlo, ma da che io ne ho memoria, il doping nel ciclismo è sempre esistito. Arriva l'inchiesta, una delle più famose riporta il nome scritto qua sopra, la visiera del mio cappellino, si mettono in galera i colpevoli, si irradiano i ciclisti e i manager, poi, in modo del tutto inspiegabile, si ha il silenzio dovuto dai personaggi del settore, dovuto dal silenzio del movimento e anche dai mezzi di informazione stampa compresa. Durante questo silenzio, in modo del tutto inspiegabile, coloro che possono e che vogliono operare nella illegalità dello sport, attraverso il doping, hanno modo di agire nell'ombra, nel silenzio, dopodiché vengono ciclicamente ribeccati. Quindi, questa cosa che io non capisco è perché dopo una grande inchiesta come questa, ci sia stato un silenzio, un non voler parlare di doping per anni, e questo ha fatto sì che un personaggio vincesse sette Tour de France, per poi essere sgamato, come si dice qui in Toscana, dall'antidoping, e quei sette Tour de France li sono stati tutti revocati. Questo, signori miei, avviene per quello che ho detto prima. Arriva l'inchiesta, si trovano i colpevoli, poi nessuno parla più di doping, stampa e movimento ciclistico compreso. Nella testa di noi appassionati di ciclismo, diciamo, beh, se nessuno ne parla, probabilmente non ci sarà il doping. Ed è questo l'errore, è questo che sbagliamo. Il doping, inteso come pratiche per andare più velocemente in modo illegale, in bicicletta purtroppo esiste. E sono molti i campioni che hanno subito squalifiche a causa dei controlli antidoping, però non è giusto, a mio avviso, stare anni in silenzio, perché altrimenti il movimento ciclistico internazionale ne risentirebbe, e scoprire che dopo i due, tre anni di silenzio dove nessuno parla di ciclismo, puntualmente il campione di turno subisce una squalifica per doping. Quello che c'è di sbagliato è come il doping viene vissuto dalla stampa e anche, di conseguenza, dagli appassionati di ciclismo. Dobbiamo capire che quando un ciclista viene colpito dall'antidoping perché ha truffato, non è soltanto lui che ci rimette perdendo i titoli non assegnati, ma il ciclista che è arrivato secondo e che magari era pulito, a lui nessuno gli riconosce i premi in denaro che avrebbe vinto, nessuno gli consegna il titolo. Se voi prendete l'esempio dei sette Tour de France vinti e poi annullati, se voi andate a vedere l'almanacco di quegli anni, quei sette Tour de France non sono stati assegnati, così come non sono stati assegnati al secondo i premi in denaro che avrebbe meritato essendo invece pulito come primo. Non so se il mio ragionamento vi torna. Cioè ci dovrebbe essere la volontà da parte delle organizzazioni che rappresentano i corridori, che rappresentano le squadre, dalle federazioni nazionali e dalle federazioni internazionali, vada compresa, la possibilità di risarcire chi è stato truffato. Ad esempio io arrivo secondo perché il mio avversario ha vinto ad esempio il Tour de France essendo dopato. Viene beccato anziché non consegnare il titolo e non dare il premio in denaro a nessuno, il titolo lo becca il secondo così come il premio in denaro. Pensate al danno che subisce chi arriva secondo perché il primo è stato dopato. Cioè è una cosa brutta. Cioè lui si è fatto il mazzo, ha mangiato la polvere, si è sacrificato come un cane, povera bestia, e poi non solo arriva secondo, ma una volta che arriva secondo e si scopre che il primo era dopato non gli viene riconosciuto alcun titolo. Questo secondo me è sbagliato. Parliamo poi anche della stampa, che non dovrebbe dimenticarsi della storia di alcuni personaggi che poi vengono reclutati come opinionisti, vengono aiutati a scrivere libri, vengono portati in trasmissioni televisivi come opinionisti. Anche questo a mio avviso è sbagliato. Sembra, cioè che a un certo punto tutto venga perdonato. Io per carità non sono il savonarola del ciclismo, anche se molti di voi pensano che lo sia, però dobbiamo anche riflettere su quello che è giusto e sull'etica della correttezza del doping. Cioè non possiamo permettere di rubare sulla strada, dopodiché vengono condannati, per poi tra virgolette riqualificarli come opinionisti o scrittori di libri o addirittura vengono reinseriti all'interno delle singole squadre come portatori di saggezza. Cioè è una cosa che non va bene, ok? Se il ciclismo vuole liberarsi dal doping, deve avere memoria storica, non deve avere questi vuoti di memoria che sono tremendi, perché poi anche lo stesso tifoso che non vede più parlare di doping per due o tre anni a un certo punto viene scoraggiato. Dice ma allora questo doping c'è o non c'è? L'antidoping funziona o non funziona? La lotta costante contro l'antidoping deve essere sempre messa al primo posto anche dagli organi di stampa, anche da chi racconta il ciclismo. La paura di perdere il tifoso non deriva dal fatto di leggere su un giornale di un articolo contro il doping. Molti del settore giornalistico hanno paura a parlare di antidoping per paura di allontanare il tifoso dal ciclismo. Ma il tifoso dal ciclismo non si allontana perché c'è l'antidoping. Si allontana perché in molti vincono col doping. È questo il problema. Parliamone, dobbiamo parlarne, deve diventare il mantra di tutti i ciclisti l'antidoping e che il doping è sbagliato. Diamo giustizia a coloro che subiscono il torto, aiutiamo le federazioni, le associazioni di rappresentanza e le squadre a stare vicino a tutti quei ciclisti che magari si vedano rovinati la carriera perché sono arrivati i secondi anziché i primi perché il primo ha vinto rubando, ma soprattutto creiamo giustizia. Cioè non è giusto che chi ha rubato uno sport, chi ha fatto del male a uno sport, venga poi reintrodotto dalla finestra come manager, come opinionista o perché scrive libri. Cioè, ragazzi, è come se a me un ladro mi entra in casa, mi porta via tutto, mi manda sull'astrico perché non c'ho più una lira e poi me lo ritrovo a farmi l'assicurazione contro i furti. Cioè, di che si parla? Ok, è un discorso un po' complicato, forse mi sono anche un po' ingarbugliato. Spero che mi abbiate capito e tenete sempre le orecchie ben dritte, il doping purtroppo nel ciclismo non è che scompare, c'è, è latente, a volte l'antidoping riesce a smascherarlo, a volte no. Però nessuno deve far finta che non ci sia, dalla stampa, alle squadre, alle organizzazioni di rappresentanza. Ma soprattutto occorre che chi ha subito un danno a causa di una truffa venga risarcito, cosa che adesso non è più così. Bene ragazzi, scusate, mi sono anche un po' incazzato, comunque fatemi sapere che cosa ne pensate. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buonanenamente alla prossima, ciao!